Ho designato la professoressa Giovanna Bonivento, archeologa e guida turistica, quale eventuale assessore della mia giunta ai beni culturali ed ambientali, alla pubblica istruzione e all'università. E allora cerchiamo di analizzare con lei quelli che sono i programmi appunto inerenti a questi settori e oggi nello specifico ci occupiamo della gestione dei beni culturali. Sì, è un pilastro della mia programmazione la gestione del patrimonio culturale al quale addirittura si potrebbe dedicare un convegno, un incontro ad hoc perché è abbastanza complesso dal punto di vista legislativo. Naturalmente, per dirle in parole povere, sulla gestione dei beni culturali, del patrimonio culturale archeologico tarantino è cascato l'asino della precedente amministrazione, perché la gestione ha fatto acqua da molte parti. E perché? E perché è mancata in realtà una gestione autentica, direi, del nostro patrimonio? Perché ha lasciato fuori la collettività. La gestione del patrimonio culturale deve partire dal basso, deve essere sentita dai portatori di interesse e i veri portatori di interesse del patrimonio culturale sono proprio i cittadini. Non sono le ditte a partita IVA a cui affidare la gestione, ma c'è tutto un mondo che ha necessità e che spinge, si chiamano gli stakeholders, portatori di interesse che spinge alla conoscenza, alla valorizzazione, alla fruizione. Ecco quindi che la gestione deve poi contemperare tutte queste esigenze, conoscenza, valorizzazione e fruizione.